Storia di Boy Questa storia, proprio come un'altra, inizia con una mela. La mela del mio racconto non era matura e non riduceva in tentazione. Era vecchia e tutta grinze, troppo in alto per coglierla e troppo testarda per cadere giù da sola. Se ne stava appesa un ramo sottile come una frusta e ballava nel vento freddo di marzo. Le capre saltavano intorno al tronco dell'albero, belando per la frustazione. Non siate così ingorde, capre, dissi mentre mi arrampicavo. Se vi comportate come maiali, alla fine cuoca vi trasformerà in prosciutti. Ma ridevo mentre le proveravo, per alleggeria e la minaccia. I rami piegavano di qua e di là, perché erano due anni che nessuno portava il frutteto. E i più giovani erano così intrecciati che sembravano nidi di uccelli. Smetti di graffiarmi, albero, bisbigliai. Non voglio farti del male, te lo giuro. Il melo era più alto di quanto avessi immaginato. Ma io non ho paura dell'altezza e non ho paura di arrampicarmi. Saliresti anche sulle nuvole, diceva sempre padre Petrus, che possa riposare in pace. Sei un miracolo, ragazzo, aggiungeva, così spesso che quasi gli credevo.